Maggio 2022, questa è la situazione attuale del boschetto di aceri palmatiche, si nota, si è infoltito abbastanza, si nota anche la presenza di qualche foglia purtroppo bruciacchiata per via della luce solare molto intensa qui da me, le foglie dell'acero palmato sono molto delicate, si nota anche la presenza di una colorazione molto diversa nella vegetazione dovuto al fatto che sono presenti delle foglie, quelle che sono tendenti più al verdognolo, che sono quelle più mature, sono andate a maturare quindi virando di colore come caratteristico di questa varietà di acero. Ci sono inoltre queste foglie più rossastre, che sono quelle più giovani, sono spuntate successivamente a seguito di qualche operazione eseguita su questi aceri circa un mese fa, dunque ad aprile, occasione nella quale sono andato ad eseguire qualche ripresa proprio per mostrarvi le operazioni di cui vi sto parlando, la scacchiatura e la pinzatura. Quindi senza perdere altro tempo vi lascio alle immagini di aprile, buona visione! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Bonsai da Principianti, oggi un video rapido per mostrarvi una piccola operazione che andremo ad eseguire qui su questo boschetto di aceri, del quale sicuramente ricorderete abbiamo eseguito poco tempo fa la creazione. I tre aceri stanno partendo chi prima, chi dopo, questo sulla destra è quello che sta partendo un pochettino più in ritardo, quello sulla sinistra come potete vedere è partito in anticipo rispetto agli altri. Potete notare altresì come abbia tirato fuori un sacco di germogli, vegetazione, quindi per prima cosa andremo ad occuparci di una selezione di questi germogli che in ambito agricolo viene definita scacchiatura, questa operazione, la selezione dei germogli. Questi in realtà non sono neanche più propriamente dei germogli, insomma già stanno iniziando a maturare queste prime foglioline, però dato che sono tante andiamo a fare una selezione in modo da tenerci quello che ci serve e buttare via il resto. Benissimo, partiamo dunque dal basso e andiamo a vedere subito che cosa ci interessa e cosa invece no. Allora, possiamo subito notare che c'è qui la presenza di un primo ramo, come vedete qui, e quindi andremo per eliminare tutto ciò che sorge alla stessa altezza, quindi anche questi qui che sono un pochettino più frontali, vediamo un attimino se riesco, e che sorgevano dove era stato già tagliato un rametto in precedenza, vediamo un attimino, vediamo anche ciò che cresce dietro, andiamo a eliminare, perché sorge nello stesso punto, ok, quindi abbiamo fatto piazza pulita, questo invece no, sorge dal primo ramo, vediamo se riesco a farvi vedere, ecco qui vedete, subito a salire abbiamo questo taglio, che abbiamo effettuato, su cui sorgono, vediamo se riesco a mostrarvi, due rametti, uno che parte più in basso, e uno che parte più in alto, ci terremo quello che parte più in alto, perché la posizione è più interessante, quindi andiamo a tenerci questo qui, che ci sarà anche utile poi, per far chiudere bene questa cicatrice, man mano che si svilupperà, andrà a favorire la cicatrizzazione di questa ferita, ed ecco man mano che andiamo a salire, poi troviamo qui dietro questi altri, quest'altro rametto qui che biforca, questo nodo è l'unico rametto per ora che spunta, quindi ce lo teniamo, poi ancora salendo, abbiamo queste nuove vegetazioni, a ridosso di questa biforcazione, sono troppi i rametti che sorgono nello stesso punto, quindi se noi adesso li lasciassimo, e li lasciassimo sviluppare, otterremmo un ingrossamento della pianta, anche una controconicità in questo punto, perché diventerebbe più grosso qui, rispetto alla parte sottostante, e quindi li andiamo ad eliminare. Abbiamo poi, in questo punto qui, come potete vedere, oltre al fusto principale, alla branca principale che prosegue, un ramo che parte verso avanti, il fronte diciamo, e un ramo che parte poi, verso la parte posteriore, andremo a eliminare, quello che si trova, nella parte più anteriore, andiamo a lasciare un piccolissimo spezzone, perché si tratta di, rami già un pochettino più, grandi celli, potremmo tagliarlo anche a filo, però, ce lo teniamo un microscopico, moncone, tanto poi, non ci costerà nulla eliminarlo in seguito. Ora, come potete vedere, ci troviamo, nella parte immediatamente superiore, una situazione molto più confusa, perché, qui, a ridosso di questi nodi, sorgono, parecchi nuovi germogli, e quindi dobbiamo andare a fare, un altro pochettino di pulizia. Qui abbiamo, una potatura, fatta precedentemente, che ha creato poi la biforcazione. La stessa cosa abbiamo poi, qui su, come potete vedere. Quindi, io, in cima, in apice qui, sono andato comunque a fare, una, leggerissima pinzatura, nel senso che, ho toccato veramente, soltanto, un paio di germogli. Magari adesso andremo a riprendere, perché nel frattempo, si è sviluppato, qualcosina in più. Però, andiamo prima a fare una selezione, di questa roba che c'è qui. Prima, puliamo ciò che viene sul fronte, perché, come sempre, in genere, dà più fastidio. Questo qui, che va un po' lateralmente, lo possiamo tenere, potrebbe essere utile. Ed eliminiamo, questo germoglio che viene qui, sul fronte, in questa direzione qui. Qui abbiamo, questo ramo, che viene dietro, non so se si riesce a vedere. Può venire bene, un rametto di profondità, vedete? Questo è quello, che abbiamo lasciato prima. Ora, qui, come potete vedere, abbiamo, questa prima coppia di foglie, e poi, il germoglio, con la seconda coppia di foglie. Andiamo, a fare, questa pinzatura, eliminando, la seconda coppia di foglie, il germoglio, da cui parto, questa seconda coppia di foglie, in modo che qui, riduciamo, un pochettino, il vigore, conteniamo la crescita, e, andiamo a indurre, una biforcazione, in questo punto qui. Dovrebbero poi aprirsi, due gemmine, quindi il ramo, anziché crescere, singolarmente, dovrebbe poi, sdoppiarsi, in questo punto, qui abbiamo, una situazione molto simile, se non addirittura, identica. Quindi, andiamo a pinzare, anche qui, in modo da contenere, poi, la crescita, in questo punto qui, per far venire, un apice, un pochettino, più compatto. Questa parte, poi, probabilmente, verrà, un pochettino, girata, da questa parte, quindi dovrebbe essere, anche essa, più contenuta, poi, in altezza. Qui, continuiamo a eseguire, la stessa operazione, quindi, sempre, pinzatura. Si può fare, con le forbici, o anche con le unghie, io l'altra volta, la feci con le unghie, e adesso, che mi trovo, con le forbici, qui, la seguo, in questo modo, però, sostanzialmente, cambia il modo, ma l'operazione, è la stessa. Andiamo, a vedere, un altro pochettino, cosa c'è da selezionare, qui, perché, come vedete, c'è questo, e c'è anche, quest'altro, germoglietto, qui, che eliminiamo, e credo, che, su questa parte, della pianta, abbiamo terminato. Andiamo, a occuparci, di quest'altra, come vedete, anche qui, abbiamo, molti rami, che partono, dallo stesso punto, quindi, andremo, questa volta, ad eliminare, quelli, sulla parte destra, anche perché, ci siamo lasciati qualcosa, qui, sulla destra, qui, ci lasciamo qualcosa, un po' più, sulla sinistra, che possa riempire, la parte centrale, nel caso, in cui, incliniamo, come potete vedere, andiamo a riempire, anche questa zona, per non lasciare, un vuoto eccessivo, in mezzo, e qui, abbiamo, ancora, molte biforcazioni, andiamo ancora, per eliminare, i germogli, quindi, e qui, abbiamo, un'altra coppia di foglie, molto, molto vigorosa, eliminata, in quanto, era la seconda coppia di foglie, e quindi, andiamo, a pinzare, oltre che a fare, questa selezione, dei germogli, in modo, da far crescere, la pianta, nel modo, in cui, vogliamo noi, andiamo a pinzare, anche qui, vi posso assicurare, ragazzi, che, anche se, immagino, che, in video, insomma, non si capisca tutto perfettamente, io vi posso assicurare, che anche, dal vivo, si fa fatica, a raccapezzarsi, in mezzo a questa, a questa matassa, di foglie, di foglie rossastre, andiamo a pinzare, anche qui, in apice, andiamo a contenere, queste cacciate in apice, perché, rischiano davvero, di farci perdere, qualsiasi forma, proporzione, seguiamo, un pochettino, i vari rametti, e ci rendiamo conto, di quello che stanno facendo, regolandoci, di conseguenza, qui, diciamo, che, bene o male, una prima, piccola selezione, l'abbiamo fatta, poi, man mano, che questa roba, andrà poi, a sviluppare, un pochettino, di più, ci andremo, a regolare, su questo primo ramo, per il momento, non mi interessa, tanto fare, della selezione, prima di tutto, perché, vorrei che, acquistasse un po' di vigore, perché, è un ramo di sacrificio, e quindi, vorrei che facesse, il prima possibile, il suo compito, cioè, far ingrossare, questa parte, qui, del tronco, perché, la funzione, ramo di sacrificio, è proprio quella, quindi, dovrà ingrossare, questa porzione, di più, di quella che c'è su, proprio in virtù del fatto, che qui, deve scorrere la linfa, sufficiente, ad alimentare, non solo, tutta questa parte, che va verso l'alto, ma anche, questo ramo qui, e dunque, dovrà per forza, essere più grossa, lo sarà, tanto più, quanto più, andrà a sviluppare, questo ramo, oltre, a tutta la parte, soprastante della pianta, e, andremo poi, successivamente, ad eliminarlo, e magari, a fare, una piccola, margottina, per ricavare, un altro acero, da questo ramo, che andremo, magari, poi, in un secondo momento, ad aggiungere, a questo boschetto, così, come altri rami, in effetti, potete vedere, che anche su questo acero, ho ottenuto, un primo ramo, di sacrificio, infatti, vedete, non l'ho neanche abbassato, non mi serve, mi serve, che rimanga più alto, per prendere, più vigore possibile, farlo crescere, più possibile, fare questo stesso lavoro, per poi, dopo, eliminarlo, e magari, recuperarlo, successivamente, probabilmente, sarà quello, che accadrà, anche con, questo primo ramo, dell'acero, in fondo, per il momento, è tutto, ragazzi, volevo mostrarvi, questa piccola, operazione, molto utile, sugli aceri, che sono, delle cultivar, che notoriamente, hanno una grande superanza, in primavera, e quindi, vanno, a fare, delle cacciate, molto vigorose, quindi, a volte, bisogna, contenerle, selezionarle, e via dicendo, quindi, questo, è il senso, di, di quello, che vi volevo mostrare, vi ringrazio, per aver seguito, anche questo video, e mettete un bel like, se non l'avete fatto, iscrivetevi, a bonsai da principianti, per non perdere, tutte le nuove uscite, e ci vediamo, nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi, a noi, Grazie a tutti.